Allora, dobbiamo immortalare questo momento fantastico, visto che l'Halloween ci ha concesso quattro volte le caramelle in più di quello che ci dava normalmente, sono riuscita ad avere tutte le caramelle necessarie per fare le impresone, evolvere il mio puccissimo che mi è andato sulla spalla. Lui è carinissimo, e no, e dobbiamo fare una cosa, e dobbiamo andare un attimo nelle impostazioni, bisogna far sentire gli effetti, ecco, e bisogna far sentire, che cos'è? No, ma sono un passeggero, sono seduta sul divano, dove va? Un meo? Dai, prendiamo il meo, prendiamo il meo. Ma perché cazzeggi? Perché ti faccio sprecare tutte le palle? Sharing? Io giustisco io le mie palle, le ho pagate. Appunto. Ok, tanto per... Credevo con le palle degli altri. Allora, cosa stavo per fare? Ah, sì. No, volevo far sentire quanto è puccioso. Pikachu! Eh, che carola! Eh, sì, lui, zitto. Quanto fa il service, dai. Allora, dai. Questo momento, andiamo, vado, schiaccio, clicco, l'accendiamo. Fammi vedere come eravai giù. Vado. Pikachu! Pikachu, che carino! Pikachu mi sta un po' qua, però Raichu rimane il mio preferito. Ma è così bellino. Ma che bello che è. Ma lui non dice niente. Fa il universo classico del Raichu. Che non è Pikachu? No. Ovviamente. Vediamo. Oh, attuano. Ci attuano 100. Eh, vabbè, insomma, vabbè, vabbè. Lui in... 1131, insomma. C'abbiamo ancora tre caramelle per poterlo potenziare un pochettino. Fammi vedere l'animazione del Raichu. Lui si... A lui non dà fastidio, Raichu. Ok. Che la gente si è andando a cagare, se pubblichi il suo video... Eh. Ma adesso c'ho Raichu. Eh, che carino! Eh, ti ho detto che Raichu... E si gira. E il culetto di Raichu? Eh? Eh? Guarda, guarda, guarda. Non c'ha un po' culo, che doveva? Guarda come ha addirizzato il codino. È stupendo. Adesso sul lato. Vabbè, ok. Sì, anche perché sono le 2.21. Chi vedrà, vedrà l'orario, la sovra. Ok. Ciao, ciao! Ciao!